Allora, quello che si è fatto nelle ultime lezioni, torniamo a questo che era il progetto generale che si aveva in mente. E quello che abbiamo fatto nelle ultime lezioni è stato sostanzialmente indagare questa parte del progetto generale, cioè fare tutto il cammino che Davai e Strass conduce a Taylor all'Hopital. Adesso voglio iniziare a indagare questa parte del cammino qua, quindi dagli assiomi di numeri reali a Davai e Strass. Quindi il percorso è assiomi di R, qui ci sono gli assiomi di R e qui c'è Davai e Strass. Allora, ci sono vari modi di fare questo cammino. C'è la direttissima, che fa così. C'è un lungo tunnel che parte dagli assiomi di R, anzi, un tunnel nemmeno lunghissimo, che parte dagli assiomi di R e arriva a Davai e Strass. E poi c'è la via, invece c'è la via alta, diciamo, quella che esamina bene tutta la situazione e fa capire un po' di cose in mezzo. Adesso quello che vedremo, l'esperimento che faccio, è quello di mostrarvi la via diretta. Cioè, partiamo dagli assiomi di R e arriviamo molto velocemente a Weierstrass. Poi però faremo, più avanti, faremo un'esplorazione di tutto quello che ci sta intorno, perché è interessante anche quello che ci sta intorno e non semplicemente l'obiettivo. Ecco. Quindi, gli assiomi di R e Weierstrass. Diciamo, in mezzo c'è un oggetto. Se io passo per la via diretta, in mezzo c'è un oggetto che è Bolzano-Weierstrass. Teorema di Bolzano-Weierstrass. Allora, adesso non so quale sia veramente l'enunciato di Bolzano-Weierstrass. Io vi enuncio una cosa centrale, quindi quello che enuncio ora è la parte centrale di tutta la questione. La parte centrale di tutta la questione è questa. Se A con n è una successione di numeri reali, è limitata. Una successione di numeri reali. Per dare più enfasi scrivo ancora meglio l'ipotesi. Supponiamo che A con n sia limitata. Supponiamo che A con n sia limitata. E ripeto, alla noia cosa vuol dire limitata? Vuol dire che esiste una costante m reale, tale che A con n, diciamo in valore assoluto, è minore uguale di m per ogni n in n. Limitata vuol dire che è contenuta in un intervallore, che posso supporre simmetrico tra meno m e m. Allora, tesi, questa è una tesi importante, esiste una sottosuccessione che ha limite. Esiste una sottosuccessione che ha limite reale. Che ha limite reale. Cioè, fatemelo ridire più precisamente, esiste una successione, fatemela chiamare nk, strettamente crescente di numeri naturali. Questi sarebbero gli indici, crescente di numeri naturali, ed esiste un numero reale a infinito, tale che ha nk, quindi la sottosuccessione, nk. Questi nk sono gli indici che indicizzano la sottosuccessione, quindi sono interi, sono numeri naturali strettamente crescenti. Questo qui tende a infinito. Questo è il teorema di Bolzano-Aestras. Quindi, detto più rapidamente, ogni successione limitata ha una sottosuccessione convergente. Questo è il teorema di Bolzano-Aestras. Com'è la dimostrazione più diretta di questo? La dimostrazione di questo sostanzialmente l'abbiamo già fatta. Per questo che la chiamo la via direttissima, è dire che l'abbiamo già fatta, sostanzialmente. Perché l'abbiamo già fatta? Perché, se la successione è limitata, che cosa ha? Aliminti e alim-sub, che sono numeri reali. E poi abbiamo dimostrato che c'era una sottosuccessione che tendeva alim-sub. Fine. Diciamo, essendo la successione limitata, limitata, si avrà che il lim-sub il lim-sub per n che tende a più infinito di a con n sarà uguale a un certo numero l reale. Non può essere più infinito perché è limitata dall'alto. Non può essere meno infinito perché è limitata dal basso. Per la caratterizzazione dell'im-sub Adesso questa è una dimostrazione veramente diretta. Per la caratterizzazione dell'im-sub Sappiamo che esiste una sottosuccessione che converge a L che esiste una sottosuccessione che converge a L Era quei discorsi del maxlim, eccetera, eccetera. Nota bene, questa ho fatto la dimostrazione con l'im-sub ma potevo fare la stessa cosa con il lim-inf Potevo fare la stessa cosa Potevo fare la stessa cosa con il lim-inf Adesso visto che voglio andare per la direttissima vado avanti ma poi se ci resta tempo voglio tornare indietro e fare una dimostrazione di questo che non usa il lim-inf e il lim-sub Quindi vorrei dimostrare la stessa cosa dopo senza usare la parola lim-inf e il lim-sub Perché ovviamente qui la fatica qui sembra un teorema banale ma la fatica dove sta? La fatica sta in quel famoso lemma che è il lim-sub e maxlim La fatica sta tutta là Così come in fondo quando la prima dimostrazione che vi ho fatto di Taylor sembrava andare via abbastanza lineare mentre la seconda c'erano quei conti da fare C'erano quei conti da fare perché conteneva al suo interno tutti gli usi di Rolle, Cauchy li conteneva tutti nella costruzione di quella funzione G per l'S Comunque adesso andiamo per la direttissima Teorema successivo, no, teorema è una parola davvero troppo grossa Corollario Corollario Cosa dice questo corollario? Sia D contenuto in R un sottoinsieme limitato e inchiuso sottoinsieme limitato e non sto a dire per l'ennesima volta cosa vuol dire limitato e chiuso chiuso sono i discorsi di venerdì scorso che coincide con la sua chiusura con l'insieme dei suoi punti aderenti poi sia con N sia con N una successione contenuta in D una successione contenuta in D cosa vuol dire successione contenuta in I? vuol dire cioè che A con N appartiene a D per ogni N in N allora qual è la tesi? che esiste una sottosuccessione allora che esiste una sottosuccessione convergente è ovvio perché? perché è limitato ma non solo il limite sta in D allora esiste una sottosuccessione esiste una sottosuccessione successione che converge ad un elemento di D ad un elemento di D adesso che faccio una piccola aggiunta tra parentesi perché non fa parte dell'enunciato vero e proprio però magari mettiamolo anzi ogni sottosuccessione convergente ogni sottosuccessione che converge lo fa ad un elemento di D lo fa ad un elemento di D dimostrazione è nulla perché è praticamente evidente però diciamola per precisare meglio le cose quindi diciamo bene la dimostrazione essendo D limitato essendo D limitato A con N ammette una sottosuccessione convergente ammette almeno una sottosuccessione convergente una sottosuccessione convergente ad un numero reale chiamiamola ANK tende ad A infinito che è reale quindi usando la limitatezza ho dimostrato che esiste la sottosuccessione convergente adesso cosa voglio dimostrare? che A infinito appartiene a D voglio dimostrare voglio dimostrare che A infinito appartiene a D cosa userò per dimostrare che A infinito appartiene a D? userò la chiusura ma è sostanzialmente la definizione di chiusura e come si fa questo? qui c'è A infinito vi faccio un disegnino che spiega la cosa qui c'è A infinito fisso un raggio R quindi prendo un'ampiezza R da ciascuna delle due parti e allora diciamo per definizione di limite per definizione di limite per ogni R maggiore di 0 trovo elementi della successione trovo elementi della successione nell'intervallo A infinito meno R A infinito più R ci siamo perché la sottosuccessione sta convergendo lì quindi ci saranno dei vari A qualcosa che sono contenuti anzi ne trovo infiniti non ne trovo solo uno ne trovo infiniti quindi trovo degli elementi di D in questo intervallino quindi A infinito sta nella chiusura ma essendo chiuso quindi quindi trovo elementi di D perché gli elementi della successione stanno in D per ipotesi per ipotesi gli elementi della successione stanno in D quindi trovo elementi di D nell'intervallino questo per ogni intervallino ma allora A infinito appartiene alla chiusura di D ma essendo D chiuso essendo D chiuso A infinito appartiene a D perché coincide con la sua chiusura quindi sostanzialmente usando la limitatezza o la sottosuccessione convergente usando la chiusura ho che il limite continua ad appartenere a D allora tutto ciò merita una definizione tanto importante definizione un sottoinsieme un sottoinsieme di contenuto in R si dice compatto si dice compatto se e solo se se e solo se è limitato più chiuso quindi compatto quando useremo la parola compatto per ora adesso sto facendo la galleria poi quando faremo il percorso alto compatto assumerà tre significati diversi insomma la cosa sarà più variegata però diciamo per un momento compatto se e soltanto se è limitato più chiuso quindi alla fine diciamo corollario è altro modo di dire quindi rienunciato di quanto detto prima rienunciato rienunciato se D è compatto se D è contenuto in R è compatto e A con N è una successione a valore in D e A con N è una successione a valore in D a valore in D allora per forza allora per forza A con N ammette una sottosuccessione ammette una sottosuccessione convergente ad un elemento di D convergente ad un elemento di D ci siamo? vi faccio notare il doppio ruolo della limitatezza e della chiusura la limitatezza garantisce l'esistenza della sottosuccessione convergente la chiusura garantisce che il limite continua a essere nello stesso insieme e beh giunti qui direi che siamo pronti per Weistras teorema di Weistras vero non è bucorrato vero 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 è una parola grossa teorema di Weistras unodimensionale per funzioni continue poi un minimo lo generalizzerei sia D contenuto in R e sia F da D in R supponiamo che già che ci sono ne approfitto per darvi una piccola dritta per quando fate un orale se qualcuno vi chiede un enunciato di un teorema voi dovete avere in mente tre cose contesto ipotesi tesi contesto di cosa sto parlando sia D contenuto in R e una funzione supponiamo che ipotesi e poi ci sarà la tesi se avete in mente questa tre partizione già riuscite a fare un enunciato decente tenete presente che qualunque simbolo che scriviate deve essere stato introdotto in sede di contesto quindi R è una cosa di cui si parla della vita quindi va bene D l'ho introdotto F l'ho introdotto quindi adesso non posso parlare più di nient'altro che non abbia introdotto nel contesto supponiamo che 1 D è compatto nell'ipotesi si condensano alle cose essenziali che poi andranno usate durante la dimostrazione 2 F continua F e continua allora tesi esistono per forza la versione edulcorata era quella in cui D era un intervallo con gli estremi che è limitato certamente ed è chiuso certamente però è un caso particolare allora esistono per forza il minimo al massimo quindi il minimo di F di X al variare di X in D e il max di F di X al variare di X in D questo è il teorema di Barstress finalmente siamo pronti per fare una sottospecie di dimostrazione dimostrazione la faccio solo per il minimo la faccio solo per il minimo la faccio solo per il minimo perché per il max è uguale va bene considero l'immagine considero l'immagine che cos'è l'immagine della funzione è questa cosa qui scritta qui questa qui è l'immagine della funzione quindi sono i valori le Y assunte quando X varia insieme D allora noi non sappiamo che è minimo però sicuramente cosa avrà inf sicuramente esiste perché sui numeri reali l'inf esiste sempre sicuramente esiste esiste I è uguale all'inf dell'immagine di F di X al variare di X in D è un numero reale questo I per il momento non lo sappiamo dopo lo sarà ma per il momento non lo sappiamo per quanto ne sappiamo noi dove sta questo I o è un numero reale oppure è meno infinito allora per un Lemma fatto suo tempo per un Lemma fatto suo tempo esiste una successione in I esiste scusate una successione nell'immagine di punti Y nell'immagine tale che Y tende a I questo è un Lemma fatto suo tempo che dato un insieme esiste una successione a valore nell'insieme che tende a lì così come c'era una successione a valore nell'insieme che tende a sub e questo è il primo punto adesso cosa vuol dire che Y stanno nell'immagine vuol dire che sono F di qualcosa giusto? per definizione di immagine esistono X con N esistono X con N appartenenti a D tale che F di X con N è uguale a Y N cioè X nell'immagine sono F di qualcuno in partenza magari dato Y non è ce n'è più di uno X con N non è obbligato che sia unico però almeno uno c'è per definizione di immagine adesso questi X con N stanno in D quindi da questi c'è la sottosuccessione convergente ora poiché D è compatto esiste una sottosuccessione esiste una sottosuccessione convergente chiamiamola X N K che converge a X infinito adesso questo X infinito io dico che è un punto di minimo dico che in quel punto lì la funzione vale Y se dimostro che F di X infinito è uguale a Y ho finito questo qui è quello là che sarà il candidato è un commento che sto facendo tra me e me è un candidato punto di minimo quindi ora voglio dimostrare voglio dimostrare che F di X infinito F di X infinito è uguale a Y se dimostro che F di X infinito è uguale a Y ho finito perché c'è un punto in cui vale l'inf e quindi è un punto di minimo se lo faccio ho finito allora come faccio a dimostrare che F di X infinito è uguale a Y che cos'è che non ho ancora usato la continuità della funzione F d'altra parte e questa è la maniera di concludere d'altra parte per la continuità di F per la continuità di F di X si avrà che F di X infinito che cos'è è uguale al limite per K che tende per infinito di F di X N K questa è la continuità se X N K tende a X infinito allora F di X N K tende a F infinito questo è l'uso della continuità è una specie di criterio funzione successione se dei punti tendono a un punto limite allora F di quei punti tende a F del punto limite questo è l'avevamo chiamato criterio funzione di successione sul quale poi ritorneremo più avanti quando faremo la via alta ma che cos'è F di X N K quindi questa qui è la continuità che cos'è F di X N K l'abbiamo scritto qui questo qui è Y N K questa qui è la definizione degli X N K sostanzialmente definizione di X N K ma il limite di Y N K che cos'è? è lo stesso di tutti gli Y N perché è una sottosuccessione e quindi questi qui questo qui è proprio I perché è una sottosuccessione di Y N sottosuccessione di Y N e questo dimostra che è F di X infinito uguale a I mi raccomando vorrei che fosse chiaro dove stanno le cose gli Y N su che ass li pensate 3 quindi questa è la dimostrazione che è semplice però è semplice anche non capire bene dove stanno le cose osservazione I diciamo gli Y che stanno sull'asse X ed in particolare in D quindi è una dimostrazione questa che alterna il sopra e il sotto diciamo io so che esiste l'inf l'inf lo approssimo con una successione YN che sta nell'immagine ma gli YN si tirano dietro gli XN gli XN convergono e allora poi si chiude il cerchio questa è la dimostrazione o per la cronaca gli X con N si chiamano gli YN si chiamano altra osservazione gli X con N gli X con N si chiamano successione minimizzante successione minimizzante successione minimizzante che sarebbe giusto chiamare successione infizzante in un certo senso perché qual è la proprietà degli X con N perché F di X con N che sarebbero gli Y con N questi tendono a I che sarebbe l'inf quindi sarebbe giusto chiamarle successione infizzante perché tendono i valori tendono all'inf ah nota bene questo dimostra che I non può essere meno infinito perché è il valore assoluto della funzione in un punto solo ora magari mettiamolo come commento solo ora solo ora si esclude si esclude che I possa essere meno infinito solo alla fine I smette di essere meno infinito e va bene adesso cosa voglio fare adesso voglio fare la cosa che avevo annunciato prima cioè voglio fare la dimostrazione classica di Bolzano Vaestras che magari di questa versione qui di quello che ho chiamato Bolzano Vaestras qui che non usi che non passi dall'IMSUP quindi dimostrazione di Bolzano Vaestras senza usare l'IMSUP usando soltanto gli SOMIDR che i ratagli usati anche nel facendo l'IMSUP perché nella costruzione dell'IMSUP si usano gli SOMIDR quindi adesso facciamo la dimostrazione di Bolzano Vaestras dimostrazione di Bolzano Vaestras usando cioè senza usare l'IMSUP senza usare l'IMSUP questo ovviamente è più difficile da capire però non sta nascondendo la polvere sotto il tappeto nell'altra dimostrazione il casino c'è ma è tutto contenuto nell'usare che l'IMSUP è uguale al maxilino cioè la successione la dà gratis se non è ma precedente invece qui va costruita con le mani quindi Bolzano Vaestras senza usare l'IMSUP quindi per ipotesi cosa sappiamo? Per ipotesi abbiamo una successione limitata per ipotesi abbiamo solo una successione limitata una successione A con N con meno M minore uguale di A con N minore uguale di M quindi qui c'è un intervallone centrato nell'origine ma la cosa del tutto è rilevante qui c'è meno M e qui c'è M e c'è una successione che vive qui dentro adesso chi è il candidato? punto limite allora si può fare in varie maniere voglio usare gli assomi dei numeri reali quindi dovrò scrivere la parola SUP o la parola IF volete che scrivo SUP o che scrivo IF scriviamo SUP allora pongo A infinito quindi faccio una dimostrazione scrivendo la parola SUP per esercizio la potrete rifare scrivendo solo la parola X A infinito due punti uguali questo è il trucchetto il SUP degli X appartenenti a meno M M e seguite l'idea qui perché è carina tale che A con M è maggiore o uguale di X per infiniti indici M quindi ragioniamo un attimo è vero che A con M è maggiore o uguale di meno M per infiniti indici sì perché stanno tutti in questo intervallo però uno dice magari anche se mi sposto un po' più in qui dove sono adesso magari è ancora vero che per infiniti indici la successione sta dopo può succedere benissimo prendo il SUP degli X per cui succede questa cosa qua quindi allora siamo sicuri che questo SUP siamo sicuri che l'insieme di cui faccio il SUP è non vuoto che sto facendo il SUP il SUP di un insieme non vuoto perché non è vuoto? perché contiene contiene X uguale a meno M e perché che un insieme diverso dal vuoto è limitato superiormente perché è limitato superiormente? certamente questo insieme non contiene punti sopra M grande perché la successione sta tutto prima non contiene elementi non contiene elementi maggiore stretto di M quindi diciamo per forza quindi già siamo contenti quindi A infinito appartiene ad R adesso voglio costruire una sottosuccessione dico che esiste una sottosuccessione che converge ad infinito ad A infinito quindi esiste una sottosuccessione A N K che converge ad A infinito adesso seguitemi seguitemi sul disegno se capite il disegno è capito tutto qui c'è A infinito non so dove sta potrebbe addirittura essere il primo potrebbe essere addirittura l'ultimo potrebbe essere il mezzo non so dove sta adesso fissiamo un epsilon e facciamo un intornino così quanti sono gli elementi maggiori di questo? quanti sono gli indici della successione? nota bene la finezza io sto dicendo per infiniti indici non ho detto che ci sono infiniti i termini della successione la successione potrebbe anche essere costante no? la successione può assumere solo tre valori però a quel punto li assume per infiniti indici quel che conta sono il numero di indici quanti sono gli elementi maggiori di questo che sto indicando? anzi quanti sono quelli maggiori di questo? sono un numero finito perché se no il super non sarebbe quello quanti sono quelli quindi maggiore di questo sono un numero finito quindi minore di questo sono infiniti quanti sono maggiori di questo? infiniti sostanzialmente quindi quanti sono che cascano in questo intornino? infiniti per ogni intornino quindi ora restringo l'intornino ogni volta ne trovo uno nuovo e ho la sottosuccessione questa è l'idea quindi allora adesso il fatto fondamentale diciamo il fatto fondamentale fatto fondamentale è questo fondamentale è questo che per ogni epsilon maggiore di zero per ogni epsilon maggiore di zero esistono infiniti indici esistono infiniti indici n per cui a con n è compreso tra a infinito meno epsilon minore uguale di a con n minore di a infinito più epsilon questo è il fatto fondamentale quindi per ogni epsilon comunque faccio un internino come ho fatto quello arancione ci sono infiniti indici per cui la successione casca dentro perché abbiamo detto abbiamo detto se così non fosse questo perché 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 abbiamo detto gli indici gli indici per cui a con n è maggiore stretto di a infinito più epsilon sono un numero finito perché altrimenti a infinito sarebbe più grande gli indici per cui a con n è maggiore o uguale di a infinito meno epsilon sono infiniti perché altrimenti a infinito sarebbe più piccolo altrimenti altrimenti a infinito sarebbe più piccolo ci siamo se avessi soltanto un numero finito maggiore di questo qui allora vorrebbe dire che già questo non va bene quando vado a fare questa definizione e quindi l'inf sarebbe quindi il sup sarebbe più basso va bene ora costruisco la sottosuccessione costruisco ora la sottosuccessione costruisco ora la sottosuccessione a nk che converge ad a infinito e la costruzione è sempre la solita con questo algoritmo con questo algoritmo allora scelgo il primo che devo scegliere è a n0 scelgo a n0 a caso poi supponendo di aver scelto fatemi fare un passaggio supponendo di aver scelto i primi k quindi a n0 a n1 eccetera a nk uso il fatto fondamentale uso il fatto fondamentale con con epsilon uguale a cosa? 1 su k 1 su k più 1 1 su 2 alla k più 1 1 su logaritmo di qualunque cosa purché vada a 0 con epsilon uguale 1 diviso che ne so k più 1 ma basta che vada a 0 basta che vada a 0 e scelgo un indice un indice e scelgo un indice nk più 1 maggiore stretto di nk perché voglio la sottosuccessione quindi gli indici devono crescere in maniera tale che a nk più 1 sia compreso tra a infinito più 1 su k più 1 e a infinito meno 1 su k più 1 pensiamo? perché posso? posso perché ho a disposizione infiniti indici quindi sicuramente ne troverò uno più grosso di quello che avevo usato fino lì quindi questo è il punto posso perché posso perché ho infiniti indici a disposizione posso perché ho infiniti indici a disposizione e va bene perché a nk tende da infinito per i carabinieri da qui è evidente per i carabinieri i carabinieri a nk tende ad a infinito allora uno può dire analogamente se avessi voluto fare l'inf cosa facevo? se avessi voluto scrivere l'inf cosa avrei preso? gli x tali che la successione è minore o uguale per infiniti indici quindi analogamente funzionava analogamente funzionava funzionava e magari provate a rifarvela in questo caso per capirla bene funzionava con chiamiamolo b infinito definito come l'inf degli x appartenenti a meno m e m tali che a n è minore o uguale di x per infiniti n ma questa dimostrazione è complicata è diversa da quell'altra è davvero diversa da quell'altra chi sono a infinito e b infinito? sono liminfe e lim sup ci siete che sono liminfe e lim sup è la caratterizzazione stessa di liminfe e lim sup è sotto sotto l più epsilon definitivamente e sopra l meno epsilon frequentemente quindi l'osservazione finale è che a infinito è proprio lim sup osservazione a infinito è proprio lim sup è proprio il lim sup e b infinito è proprio liminfe è proprio il liminfe e questa è un'ulteriore caratterizzazione di liminfe e lim sup non solo sono max lim e min lim ma sono il più grande valore per cui per infiniti indici sta sopra o sotto a seconda dei casi quindi questa è un'altra caratterizzazione questo per dire che se uno va a Bolzano-Vaestrat per questa via non è che non sta facendo liminfe e lim sup semplicemente non li sta chiamando con quel nome ma liminfe e lim sup avere capito liminfe e lim sup dà un'idea migliore di questa dimostrazione ed è il motivo per cui faremo un giro passando sulle montagne dagli assiomigliere al teorema di Vaestras per vedere che cos'è che abbiamo dimenticato in giro chiamandolo con altri nomi ok